Amo sviluppare la mia coscienza per capire perché sono vivo, cos'è il mio corpo e cosa devo fare per cooperare con i disegni dell'universo? Non mi piace la gente che accumula informazioni inutili e si crea false forme di comportamenti, plagiata da personalità importanti. Mi piace rispettare gli altri, non per via delle deviazioni narcisistiche delle loro personalità, ma per come si sono evolute interiormente. Non mi piace la gente la cui mente non sa riposare in silenzio, il cui cuore critica gli altri senza sosta, la cui sessualità è perennemente insoddisfatta, il cui corpo si intossica senza sapere apprezzare di essere vivo. Il cui corpo si intossica senza sapere apprezzare di essere vivo! Ogni secondo di vita è un regalo sublime! Ogni secondo di vita è un regalo sublime! Mi piace invecchiare, perché il tempo dissolve il superfluo e conserva l'essenziale. Il tempo dissolve il superfluo e conserva l'essenziale. Non mi piace che i perretaggi infantili trasforma le bugie in superstizioni. Non mi piace che ci sia un papa che predica senza condividere la sua anima con una papessa. Non mi piace che la religione sia nelle mani di uomini che disprezzano le donne. Amo collaborare e non competere. Amo collaborare e non competere. Amo collaborare e non competere! Amo collaborare e non competere! Collaborare e non competere! Ogni secondo di vita è un regalo sublime! Non mi piace scoprire in ogni essere quella gioia perenne che potremmo chiamare Dio interiore! Dio interiore! Non mi piace l'arte che serve solo a celebrare il suo autore. Non mi piace l'arte utile per guarire. Non mi piacciono le persone eccessivamente stupide. Mi piace tutto ciò che provoca il sorriso. Mi piace tutto ciò che provoca il sorriso. Amo affrontare volontariamente la mia sofferenza Con l'obiettivo di espandere la mia coscienza. Grazie per aver guardato nell'altro amico